Polizia di Stato in festa per il 171esimo anniversario della sua fondazione, premiati in prefettura, pesero gli agenti che si sono distinti in servizio. Rissa Fano Vigor, il questore Clemente ha emesso otto d'aspo, coinvolti cinque fanesi, due esini e un senigallese che non potranno più accedere agli impianti sportivi per diversi anni. Il Consiglio dei Ministri ha accolto lo stato d'emergenza per il sisma del 9 novembre che ha colpito Fano, Pesaro e Ancona. Dal governo quasi 5 milioni per i primi interventi. Povertà e spreco alimentare, scuola e terzo settore insieme per un percorso educativo con attività teorico-pratiche. Terminato per il secondo anno il progetto Vivere Solidali, promosso dal Liceo Marconi in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare ma anche uomini. L'essere indifferente all'Istituto Olivetti di Fano ha allestita una mostra sulle donne africane che hanno fatto la differenza. Un luogo caratteristico dove si mescolano arte e cultura. Al Museo Diocesano esposizioni di statue, dipinti e reperti storici. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario. Oggi in prefettura Pesaro è stato festeggiato il 171esimo anniversario della Fondazione di Polizia di Stato. Per l'occasione sono stati premiati gli agenti che si sono distinti per meriti speciali nell'ambito di attività di pronto intervento e di indagine. Ha seguito la cerimonia Marco Lonigro. 171esimo anniversario per la Polizia di Stato. Nella giornata odierna si sono svolte le celebrazioni nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate in ogni provincia dalle questure. Una giornata volta a suggellare l'orgoglio e il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Intanto faccio gli auguri cari e sentiti a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. sottolineo il loro valore, la loro abnegazione, lo spirito di sacrificio, la fedeltà alla Repubblica e soprattutto la possibilità di far sì che noi possiamo esercitare i nostri diritti e le nostre libertà. Quindi è grazie alla loro attività che noi riusciamo ad esercitare i nostri diritti. Tutti gli anniversari sono importanti ed è più importante ciò che è tra un anniversario e l'altro. Quindi oggi siamo qui a parlare di quello che abbiamo fatto quest'anno e a celebrare la Polizia di Stato nel suo 171esimo anniversario. È stato un anno buono, abbiamo fatto buoni risultati, la pandemia alle nostre spalle, abbiamo dato una risposta puntuale e diciamo soddisfacente ritengo io. Ci apprestiamo a fare meglio perché abbiamo un importante appuntamento per il 2024 capitale della cultura in Italia. Quindi ci dovremo adeguare a questa sfida. Alle celebrazioni svolte sì nel Salone Metaorense della Prefettura e rappresenta anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha parlato dell'importante traguardo raggiunto dalla Polizia di Stato. Solo nella nostra città l'azione è fatta nel parco Miralfiore che ha liberato il parco dalla presenza di tanti spacciatori con un arresto importante dopo mesi di indagini e poi l'omicidio Panzieri e la capacità in pochissimo tempo di trovare il colpevole, consegnare alla giustizia. Sono due delle tante azioni importantissime fatte dalla Polizia di Stato insieme alle altre forze dell'ordine. Quindi un ringraziamento al questore e a tutti i poliziotti perché la collaborazione istituzionale con i comuni è fondamentale per avere delle città e dei territori sempre più sicuri e sempre più in grado di contrastare eventuali tentativi della criminalità. Al termine della cerimonia è avvenuta la premiazione dei poliziotti che si sono distinti per meriti speciali nell'ambito di attività di pronto intervento e di indagine. Sì è giusto, questa è la festa della Polizia e ogni anno si ringraziano e si danno degli encomi a chi si è distinto particolarmente per delle azioni coraggiose ed efficaci e quindi un plauso a maggior ragione a tutti coloro che hanno ricevuto questa testimonianza. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 16.30 in località a Monte Calvo in Foglia per un incidente stradale. Il conducente di un'autovettura per cause da verificare ha perso il controllo ed è uscito di strada finendo nel fosso adiacente alla carreggiata. La squadra di Urbino intervenuta con un autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto ad aiutare la persona ad uscire dall'auto per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le forze di polizia per i rilievi di legge. Divieto di accesso agli impianti sportivi per otto ultras delle tifoserie calcistiche di Fano, Iesi e Senigallia. Lo ha stabilito il questore di Pesaro e Urbino, Raffaele Clemente, che ha emesso i provvedimenti a seguito degli scontri risalenti al 2 aprile scorso quando a Ponte Metauro un gruppo di tifosi dell'Alma Juventus Fano, assieme ad alcuni ultras della Iesina Calcio con i quali sono gemellati, hanno organizzato e attuato un'aggressione nei confronti di alcuni tifosi della Vigor Senigallia che in quel momento stavano transitando con il loro auto lungo la statale adriatica. L'attività condotta dal personale del commissariato di Fano in collaborazione con i colleghi di Iesi e di Senigallia ha portato all'individuazione di otto persone che hanno partecipato attivamente alla Rissa. Le misure interdittive prevedono il divieto di assistere agli eventi calcistici per cinque tifosi fanesi, due dei quali destinatari di Daspo della durata di tre anni e due della durata di due anni, nonché per due tifosi provenienti da Iesi e uno da Senigallia, tutti colpiti da Daspo della durata di anni due. La gravità dei provvedimenti emessi, si precisa nella nota, è stata graduata sia in base al ruolo avuto da ognuno dei disordini sia ai precedenti specifici. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la convalida dell'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello Stato di emergenza a seguito delle forti scosse di terremoto che lo scorso 9 novembre hanno colpito i territori di Ancona, Fano e Pesaro. Lo ha annunciato ieri sera su Facebook il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri. Il Governo, ha aggiunto il Presidente, ha stanziato 4,86 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi nell'emore della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sismico. Il Governatore ha poi ringraziato il Presidente Meloni e il Ministro Musumeci per questo provvedimento che permetterà, hanno detto, di dare risposte agli enti locali e alle tante famiglie sfollate. E sull'argomento oggi è intervenuta anche Marta Ruggeri, capogruppo consigliare dei 5 Stelle, secondo la quale la politica ha la memoria corta. Acquaroli, che si vanta sulla dichiarazione dello Stato di emergenza, ha commentato Ruggeri, non si ricorda che la Giunta e la maggioranza osteggiarono la proposta dell'opposizione che sollecitava un intervento sul Governo centrale. Un atteggiamento, ha proseguito in una nota, che può essere interpretato in chiave difensiva, cioè la paura di disturbare il Governo con la richiesta di risorse economiche oppure in base a un motivo politico. Le principali città danneggiate dal terremoto, quindi Ancona, Fano e Pesaro, sono infatti amministrate dal centro-sinistra. Per fortuna, ha concluso Ruggeri, l'opposizione non ha desistito e oggi può dire di aver fatto un buon servizio alla comunità marchigiana, al contrario di qualcun altro. Ed ora ci spostiamo a Pergola, dove la Confederazione Italiana Agricoltori, la CIA, ha organizzato un seminario sulla buona pratica agricola e i nuovi obblighi di condizionalità. Le attività sono state realizzate con il contributo del programma di sviluppo rurale della Regione. Sentiamo. Seminario PSR sulla nuova politica agricola comunitaria. Una novità sostanziale, la difesa dell'ambiente. Seminario di formazione organizzato da CIA, che ha trasmesso agli imprenditori agricoli le novità delle nuove politiche comunitarie. Molti cambiamenti in evidenza, soprattutto la difesa del benessere ambientale. Una giornata che vede gli agricoltori protagonisti a Pergola. Sì, con piacere abbiamo messo a disposizione il nostro teatro per ospitare questo evento, questa giornata dove appunto gli agricoltori sono protagonisti, l'agricoltura è protagonista. Abbiamo la fortuna di vivere in territori bellissimi e l'agricoltura è sicuramente molto importante. Chi si prende cura dei nostri territori svolge veramente un lavoro prezioso. Un cambiamento soprattutto per il benessere degli animali e ambientale. Per quanto riguarda il benessere degli animali è fondamentale anche perché ormai deve entrare, ma è entrata nella mentalità dell'agricoltore e dell'allevatore che comunque si può avere un futuro sostenibile solo potenziando il benessere degli animali. Sotto i diversi aspetti, da quello prettamente del lavoro dei campi alla zootecnia, però è fondamentale mettere in campo tutte quelle azioni di sostenibilità come la sostenibilità ambientale. Ma nelle misure della PAC, della nuova programmazione PSR, adesso CSR, le misure agroambientali quindi anche legate al biologico, al sostentamento proprio della natura rimangono al centro e fondamentali e prioritari anche per avere poi i contributi. In che modo questo nuovo programma contribuirà alla difesa dell'ambiente? In un modo decisamente diverso dal passato e che di fatto impegna un'importante fetta del plafond proprio a delle scelte aziendali che i nostri agricoltori italiani sono impegnati a fare nell'ottica della salvaguardia ambientale per la salvaguardia degli impollinatori, per la salvaguardia dell'erosione dei terreni, per il benessere animale, la riduzione dei farmaci veterinari, tutti i temi molto significativi che incideranno molto nel portafoglio anche delle aziende che faranno queste scelte. Il vostro sostegno agli agricoltori? Tutti i nostri uffici sono disponibili a offrire consulenza a tutti i nostri agricoltori, a fare delle simulazioni per la nuova programmazione. Anas ha avviato gli interventi di ripristino strutturale del viadotto Contessa sulla strada statale 452 della Contessa tra Gubbio e il confine della provincia di Pesaro. Gli interventi per un investimento complessivo di 6 milioni di euro prevedono in particolare la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo e la realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio, oltre al rinforzo delle pile e delle spalle esistenti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, a partire da lunedì 17 aprile, la strada sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del cantiere. I due tratti, a monte e a valle della chiusura, restano fruibili per il traffico residenziale e per i veicoli diretti verso le attività commerciali. Il completamento è previsto prima delle festività natalizie di dicembre 2023, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli. E prenderà il via giovedì 13 aprile alle 20.45 a Castelcavallino, nella Sala Civica, il tour dell'amministrazione comunale di Urbino sul territorio. Il sindaco Maurizio Gambini, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, incontrerà i cittadini per un confronto diretto sui temi e i progetti di sviluppo che riguardano il territorio comunale. In particolare, nell'occasione verrà illustrato il progetto di riqualificazione del Centro Storico del Borgo di Castelcavallino e verranno ascoltate le osservazioni dei cittadini. La seconda tappa sarà lunedì 17 aprile nella Sala Civica di Schieti. Si chiama Vivere Solidali ed è il progetto che ha coinvolto gli studenti del Liceo Marconi e la Fondazione Banco Alimentare che hanno messo in campo iniziative a contrasto della povertà e dello spreco alimentare. Scuola e Terzo Settore, insieme, realizzano per il secondo anno un percorso educativo rivolto ai ragazzi che sperimentano con attività teoriche e pratiche una risposta concreta alla povertà e contro lo spreco alimentare. Il progetto Vivere Solidali, promosso dal Liceo Marconi in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, ha visto il coinvolgimento di ragazzi, famiglie e docenti per mettere a tema la lotta allo spreco alimentare e la cultura del recupero. Il progetto è stato ricco di contenuti perché siamo andati a guardare il piano normativo quindi anche in un piano che andava proprio a coinvolgere quello che è l'educazione civica, vedere proprio anche tutte le norme che aiutano l'economia circolare, fino poi invece a guardare cosa ce ne facciamo del recuperato e quindi abbiamo introdotto il grande tema della carità, dello scambio, del guardare l'altro e questa cosa è stata interessante perché anche i ragazzi hanno avuto proprio l'opportunità di riguardare la loro esperienza, anche di raccontarsi. Abbiamo fatto degli appuntamenti nelle classi per cui proprio noi con i nostri volontari siamo andati a raccontare, cioè noi recuperiamo il cibo per poi darlo agli enti assistenziali e allora abbiamo invitato qualche responsabile di questi enti proprio per poterci raccontare come arriva poi alla persona bisognosa e loro sono stati molto coinvolti al punto che poi hanno fatto una raccolta a scuola e oggi festeggiamo proprio la chiusura. Per la seconda edizione la raccolta viveri che ha attenzionato le persone bisognose del nostro territorio e soprattutto dare un valore anche agli alimenti per non essere sprecati e direi attenzionare al massimo la persona in tutti i suoi aspetti che abbiamo cercato di valorizzare sia nella visita al banco alimentare sia nell'accoglienza degli operatori che hanno spiegato proprio le attività quotidiane e la bellezza dei ragazzi che si sono prestati a questa bellissima esperienza. Abbiamo già qualche dato, il quantitativo di prodotti raccolti corrisponde più o meno a un quintale Come avverrà la consegna? Come avverrà la consegna? La consegna avverrà in questo modo che tra poco arriverà il camion del banco alimentare verranno raccolti tutti questi scatoloni portati al deposito e poi nel corso delle settimane successive verranno distribuiti alle varie famiglie qui della zona bisognose qui della zona. È un progetto veramente emozionante perché siamo tanti studenti ci siamo messi appunto a collaborare con il banco alimentare per aiutare i bisognosi e sapere che tutto questo cibo che vi ha raccolto andrà direttamente alle persone, alle famiglie è veramente una cosa bella. Allora, è un'esperienza formativa comunque che coinvolge molti ragazzi aiuta in una crescita secondo me personale perché comunque arricchisce molto fa capire anche il senso delle piccole cose e fa capire comunque che non bisogna sprecare alimenti e che comunque la vita è preziosa e non va sprecata. Ed ora nel prossimo servizio andiamo alla scoperta della mostra fotografica allestita all'interno dell'Istituto Olivetti sul tema l'essere indifferente. All'interno dell'Istituto Adriano Olivetti di Fano è stata allestita una mostra fotografica intitolata all'essere indifferente in questa occasione Donne d'Africa visibile dal 13 al 28 di aprile. Di che cosa si tratta e che cosa viene esposto? Allora, questo è un progetto denominato l'essere differente. In pratica il valore della differenza chiaramente è in chiave positiva. Qui sono rappresentate donne africane che hanno fatto la differenza in tanti campi. Quindi la differenza non intesa come valore da diminuire ma come valore aggiunto. Come capofila di questa mostra che questo progetto appunto rappresentiamo vuole proprio cercare di sviluppare la cultura della differenza. La GFI da sempre ha perogato questa causa e i partner che fanno parte di questo progetto sono l'Africa Chiama, Agedo e altre collaborazioni. E questo progetto è stato presentato alla Commissione Pari Opportunità dalla commissaria Alessia Di Girolamo. La mostra che appunto presentiamo si trova nella sede centrale dell'Istituto Polo 3 in Via Nolfi. È aperta dalle 8 alle ore 14, è una mostra interna e quindi le scuole che vogliono venire appunto a visitarla devono comunicarlo come è presentato nel cartellone. L'Istituto Olivetti che nei suoi indirizzi offre anche quello di grafica e web community ha redatto una locandina su questa iniziativa. L'elaborato scelto è quello di Gioele Canistro. Gioele, che cosa hai rappresentato? Allora nel mio manifesto intitolato Donna in Africa ho raffigurato una donna africana con il continente africano che comunque dopo varie scelte di design ho scelto di metterla africa nei capelli. Come si può vedere nel manifesto c'è anche la bandiera dell'Africa raffigurata nello sfondo. Il Polo 3 ospita una mostra per queste due settimane. La mostra sarà visibile agli studenti dalle 13 alle 14 per due settimane. Ed ora cambiamo argomento. L'associazione culturale Ex Concordia Felicitas ha fatto conoscere attraverso una visita completamente gratuita il Museo Diocesano di Fano poco distante dal centro storico. Ci è andata per noi Cristiana Guerra. È situato in una delle vie più trafficate del centro di Fano ma solo voltando lo sguardo al margine della strada si nota un grande cancello che conduce in un luogo magico conosciuto da pochi, il Museo Diocesano. A far conoscere questo angolo di Fano ci ha pensato l'associazione culturale Ex Concordia Felicitas che ha condotto i fanesi non solo in un luogo alquanto singolare, coinvolgente e suggestivo, ricco di storia e cultura. Un altro dei tesori nascosti di Fano, nascosti nel senso che sono poco conosciuti e il nostro scopo è quello di fare cultura, fare conoscere queste cose alla maggior parte della gente possibile e renderli fruibili e abbiamo anche oggi un grande esperto, il dottor Guido Ogolini che ci aiuterà in questa splendida visita. Giunta al quarto appuntamento alla scoperta dei luoghi segreti della città della Fortuna l'associazione ha organizzato due visite guidate di un'ora, completamente gratuite che hanno incuriosito e meravigliato i tanti partecipanti. Il museo, inaugurato nel 2013, si divide in due ambienti, quello del lapidario e della raccolta museale come ha spiegato il massimo esperto e storico dell'arte Guido Ogolini. Ci sono raccolti pezzi che sono stati trovati negli scantinati, le pietre eccetera e sono un numero discreto ma non grosso insomma e poi una raccolta di opere selezionatissime nel museo diocesano diciamo nella sala che raccoglie dipinti, statue eccetera e altri oggetti. Alle sue spalle vediamo proprio un angelo, che cosa rappresenta? Sono tre gli angeli, ecco. Dovevano sicuramente appartenere a una tomba monumentale. Tutti guardano in una stessa direzione, il che fa presupporre che dovevano avere davanti qualche cosa o la statua del morto o che doveva essere molto giovane. Invece nell'altra sala le diceva ci sono dei dipinti? Dei dipinti, sì, ci sono dei dipinti, ci sono delle statue ligne, c'è un pastorale stupendo, ci sono due crocifissi straordinari entrambi. A che epoca risalgono? Il primo intorno alla metà del secolo XIII, 1250 circa, il secondo rinascimentale. Per visitare il museo occorre prenotarsi al sito internet fanodiocesi.it Invece alla Memo di Fano ieri pomeriggio si è tenuto un incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento di processo di inclusione attraverso lo sport. È stato un pomeriggio di riflessioni, di conferme ed idee innovative per la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo regionale applicato alle pari opportunità. Si tratta dell'importante incontro tenutosi alla Memo di Fano dal titolo Marche, Sport e Società, ieri, oggi e domani. Presenti tutti coloro che operano nel mondo sportivo, tra cui dirigenti, allenatori, laureati in scienze motorie e insegnanti, per confrontarsi e fare il punto sulla situazione del processo di inclusione nato nelle Marche attraverso lo sport. Possiamo dire che la Regione Marche è sempre più attenta allo sport inclusivo? Ma direi proprio di sì. La Regione Marche attraverso lo sport sta cercando di dare prima di tutto quelle grandi soddisfazioni che arrivano grazie ai risultati sportivi. Penso che i risultati che sta ottenendo l'Italia, che sono noti a tutti, dentro, mi piace ricordare che c'è dentro tanto anche della nostra regione, sia a livello individuale che a livello di società sportive. Ma lo sport non è solamente il risultato sportivo agonistico, ma è tanto altro. È quello che abbiamo voluto fare, prevedendo questi quattro incontri sul territorio, poi con un incontro conclusivo ad Ancona il 6 maggio, è proprio quello di parlare di altri aspetti legati allo sport, in questo caso di inclusione. La Regione Marche sta facendo veramente tanto attraverso le nostre società sportive, a cui va il mio ringraziamento perché non dimentica mai quelli che sono gli aspetti veramente e i valori dello sport e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Dicevo, gli appuntamenti che abbiamo organizzato e che oggi abbiamo visto il primo qui a Fano serve proprio per fare una riflessione su quanto di bello sta facendo il nostro mondo negli ultimi vent'anni, per vedere se anche a livello normativo siamo già a buon punto o c'è da modificare qualche cosa, per poi dopo presentare il tutto sia alla Regione sia magari anche al Ministro Rabotti che sarà presente il 6 maggio a questo appuntamento. Immaginiamo che lo sport sia lo strumento che ci aiuta a battere ogni barriera, che ci consente di coniugare il tema delle pari opportunità a 360 gradi. Vorremmo arrivare il 6 maggio all'incontro più istituzionale che faremo con i rappresentanti della Regione, i rappresentanti del Governo, a enunciare un po' una proposta, una proposta sullo sport di domani, su cosa immaginiamo possa essere nelle Marche lo sport fra 20-30 anni. Non ci possiamo accontentare nel nostro ruolo, nei nostri ambiti, per noi è immaginabile pensare che non si possano risolvere al 100% le problematiche che riguardano le pari opportunità e siamo consapevoli che lo sport che noi rappresentiamo è lo strumento principe perché questo avvenga. È un processo che accoglie la diversità, l'accoglie ma soprattutto la valorizza. Per il mondo dello sport l'inclusione sociale è sicuramente un volano straordinario con cui si riescono ad ottenere dei grandi risultati. La nostra città, diciamo che da questo punto di vista è già molto dinamica all'interno di un tessuto sportivo che include sia le persone che non sono normodotate ma anche la parità di genere, quindi un mondo femminile che è sempre più alle porte e a Vincente. E vi annuncio che lunedì prossimo ospite a primo cittadino sarà il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Potete intervenire in diretta telefonando al numero che vedete in questo cartello oppure mandare un messaggio whatsapp al 338 49 68 250. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale targato CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, dal titolo Buona pratica agricola PSR Marche e nuovi obblighi di condizionalità. L'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Grazie. Grazie.